il televisore questo è un note 2 e questo è un cavo che permette semplicemente questo cavo di far vedere tramite l'hdmi lo vediamo qui c'è l'hdmi questo questo rosso poi in basso ok questo è l'hdmi permette di vedere quello che c'è nel cellulare tutto quello che è nel cellulare si vede nel televisore quindi uno si può vedere i film youtube adesso questo televisore potevo uguale perché erano smart tv eccolo qua però per chi non ha lo smart tv eccolo qua quindi per chi non ha lo smart tv è una buona cosa da notare ci vuole anche un usb ecco qui è l'usb vedi l'usb basta anche metterlo in quello per ricaricare il cellulare perché nel frattempo che tu guardi i video e devi devi comunque ricaricare il cellulare se non ti si scarica il cellulare e poi comunque se non alimenti con queste quattro volte e mezzo dell'usb comunque non funziona quindi con questo cavo da notare un'altra cosa che questo per il note 2 e ci vuole proprio il suo perché ce l'avevo prima uno per il note 1 e il note 1 aveva non funziona per lo del note 1 per noi 2 quindi bisogna proprio scegliere il modello giusto è una bella cosa ma in vacanza e ti poi vede i filmati sul televisore basta portarsi di arrossogavo carina